Quali sono i segreti del successo di Ciocco Kebab? Io ritengo che Ciocco Kebab ha avuto successo per quattro fattori fondamentali. Innanzitutto il prodotto. Stiamo parlando della classica ricetta del cremino piemontese, quindi parliamo di cioccolata, un prodotto che piace tantissimo e che grazie al supporto tecnologico di Techfood che mantiene questo prodotto a una temperatura stabile durante tutto l'anno, il prodotto possa essere consumato in tutte le stagioni. Seconda la formula chiusa di vendita, cioè Techfood in questo caso propone ai suoi clienti un pacchetto chiave in mano che oltre alla vendita delle tecnologie include anche la vendita delle materie prime, quindi sia del Ciocco Kebab che della Ciocco Pita ma anche di quelli che sono tutti i supporti alla vendita, a partire dal contenitore da asporto e dal tovagliolino. Quindi questo fa sì che il cliente possa avere un prezzo, un costo di produzione garantito. E stiamo parlando di 80 centesimi, quando il prezzo di vendita sul mercato si assesta ai 3,50 euro. Naturalmente terzo fattore di successo l'elevata marginalità perché è uno degli elementi fondamentali con il quale un imprenditore inizia a fare i conti, perché un prodotto che costa 80 centesimi e viene venduto a 3,50 euro garantisce all'operatore una marginalità elevata. C'è un'ulteriore novità che fino ad oggi l'azienda non aveva mai applicato, l'esclusiva? Sì, naturalmente Techfood fino ad oggi si è rivolta ai suoi clienti come fornitori di tecnologia. Oggi invece Techfood con Ciocco Kebab propone alla clientela un pacchetto chiave in mano. Quindi oltre alla tecnologia il cliente acquista da Techfood anche le materie prime. E Techfood con il controllo delle materie prime si può permettere di dare ai suoi clienti il prodotto in esclusiva. Esclusiva che ha la durata di 12 mesi ed è data dal riacquisto di un kit mensile di Ciocco Kebab.